ciao ragazzi 3k20 mi presento e saluto svaldo del canale youtube anti bitume quindi andiamo con l'intervista a dopo ciao robin il tuo nome del canale? il mio canale si chiama 3k20 e la tua passione per i tre rani quando è nata? la mia passione per i tre rani è nata fin da piccolo faccio l'atletica dopodiché ho fatto anni e anni di ciclismo dopo un bel po' di anni ho deciso di nuovo di ricominciare a fare il tre rani che è una passione innata fantastica benissimo e niente lo auguro a tutti quando fai con passione è una gioia immensa quando è nata la motivazione per aprire il tuo canale gli obiettivi del mio canale sono la passione di condividere con voi qualcosa di spettacolare 3k20 parliamo dei contenuti del tuo canale quali sono? ci sono dei contenuti recensioni del blog in generale da quello che mi sento in quel momento lì sono da condividere con voi un bel corso un sentiero una tecnica per le salite come allenarsi le gare insomma tante belle cose io ve lo voglio condividere con voi la tua esperienza memorabile? la mia esperienza più memorabile quando correvo nel 2003 il Guinness dei primati vado ligure macinaccio in Corsica bellissima esperienza un anno alla rai canale 5 abbiamo girato abbiamo fatto ci siamo divertiti e soprattutto ha imparato che l'organizzazione la passione quei ragazzi è stata un'esperienza indimenticabile